Siete tutti uguali, voi strizzacervelli. Pensate di sapere tutto. Che con le chiacchiere possiate risolvere i problemi della gente. Cazzate, voi spillate soldi e basta. Le faccio io una domanda. Come posso fidarmi di lei? Chi la conosce? Come fa una persona a parlare di se stessa ad un estraneo? Vieni qui! Non voltarmi mai le spalle. Cazzà! Emma! Apri questa cazzia di porta! Apri! Apri questa cazzia di porta! Mamma... 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 Hai visto che hai ragione? Non hai servito a niente con questo. Ed ecco il risultato. Ti rendi conto cosa hai fatto? Hai rovinato per sempre la mia vita. Vorrei solo aiutarti. No, io qui non ci torno. Perché lei vuole insegnarmi a combattere? Crede che possa risolvere il mio problema? Il Kung Fu deve scorrere dentro di te come un canto melodioso. Deve raggiungere la tua anima. Attribuire ad un'unica persona la propria ragione di vita vuol dire non accettare più di vivere la propria. Ho conosciuto un maestro. E per la prima volta ho sentito il suono della mia anima. Il Segnese di per la prima volta ho sentito la mia anima. Il se che era un percorso del mondo. verkende di diritto del mondo. La mia anima è una anima. L'ultima è un'unica persona la mia anima. È un'unica persona che vuole a un'unica.